Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano con la carta stampata. Occhio ai giornali, vi mostriamo le notizie principali sui due quotidiani in edizione locale, il resto del Carlino e il Corriere Adriatico. Voi naturalmente state magari probabilmente sorseggiando il primo caffè della giornata, noi invece siamo qui che sfogliamo insieme a voi le notizie principali. Ma diamo anche un'occhiata al calendario, come sempre guardiamo anche il Santo del Giorno e anche le previsioni del tempo per un fine settimana all'insegna anche di tutti gli avvenimenti. Insomma qui a Fano c'è il Carnevale come tutti ormai sappiamo. Ma procediamo con ordine, guardiamo la grafica che cosa ci rimanda per sabato 8 febbraio e Santa Giuseppina Bachita. Il sole sorgerà alle 7.16 e tramonterà alle 17.28. Previsioni del tempo che almeno sulla carta si presentano nel migliore dei modi perché vedete a parte naturalmente i fenomeni di gelo e di brina nelle prime ore del mattino nelle zone interne e a Fondovalle chiaramente, ma anche sulla costa stamattina il parabrezza dell'auto era bello gelato, sereno, poco nuvoloso il cielo, precipitazioni assenti, temperature stazionarie anche in lieve aumento. Anche per domani, domenica, tutto sommato il tempo non si sposta di molto, ci sarà una lieve intensificazione della nuvolosità a partire dal pomeriggio, però le piogge non sono date, quindi come vedete su tutta la regione la simbologia è la medesima e quindi anche le temperature saranno stazionarie se non in lieve aumento. Anche per lunedì inizialmente si presenta come in queste ore il tempo, però ci sarà una intensificazione della nuvolosità e anche l'arrivo delle precipitazioni, più che altro come vedete sul crinale appenninico con intensificazione nel corso del pomeriggio di queste precipitazioni che saranno a carattere debole e sparse appunto nelle zone montane. Le temperature sono date ancora in aumento e quindi insomma sembra che proprio dal punto di vista delle temperature questo sia un inverno, un stagione alquanto anomalo. E quindi per i giorni successivi, quindi per il prosieguo della settimana, ci saranno una transito di perturbazioni, però questo a partire da metà settimana. Quindi per i primi giorni della prossima settimana ci saranno naturalmente condizioni stabili. Quindi carnevale qui su Fano, almeno graziato dalla pioggia e quindi prima di parlare di questo però andiamo nelle pagine dei giornali. Vi porto nelle pagine subito che riguardano la nostra provincia. L'apertura del Corriere Adriatico è per la cronaca. Banda ruba l'armadio blindato, un'altra villa finisce nel mirino, preziosi e un fucile trafugati. I ladri razziano anche nella casa del custode. E poi la fotonotizia è per le scritte contro il cantiere del vilino a Cianri. Imbrattata l'area dice giù le mani dalla città vergogna. Questa è la scritta comparsa sui legni che delimitano il cantiere. L'edificazione al centro naturalmente è di una tesa polemica, però comunque sta proseguendo. La Guardia di Finanza intanto sequestra 80 tonnellate di mezzi lasciati così in una discarica che non aveva tutte le carte in regola per fare lo smaltimento di queste carcasse di autovetture. E poi si parla dell'arena che diventa un volano e un indotto da oltre 16 milioni. L'arena Lavriti Frigo Arena a Pesaro, quella che tutti conoscono come ovviamente l'astronave. Andiamo nell'altra pagina, quella che riguarda l'inserto di Pesaro del resto del Carlino. Foto notizia per Ivan Cottini che arriva a Sanremo e si esibirà in una performance assieme a Bianca Berardi. Ma l'apertura è per la cronaca e l'indagine Erap delle Fiamme Gialle che mette nei guai un dirigente. Spuntano carte e retroscena nell'indagine della Procura. Anche qui ampio spazio al nuovo Videocube. Immagini a 360 gradi per godersi al meglio anche le azioni sportive principali degli atleti. Vi faccio vedere la pagina di Ancona del resto del Carlino che parla di questa esplosione, di una tubazione in pieno centro che mette in tilt tutta la città. In 20.000 pensate restano senza acqua, comprese attività commerciali, anche le scuole in piena attività. Le mense sono andate in crisi, insomma hanno sopperito come meglio potevano. 20.000 restano senza acqua per la bellezza di 14 ore e si pensa a un cedimento strutturale. Ecco, quindi questa crepa, vedete questa tubazione che non è profondissima, però comunque ha messo in ginocchio una città per 14 ore. Il caos totale, forse un difetto di fabbricazione. Il boato si è avvertito nella notte in via Giannelli, il cratere del diametro di una decina di metri e strade trasformate in fiumi disagi, appunto oltre che per chi abita nei paraggi, anche per negozi. Fino all'ospedale Salesi è arrivata questa crisi idrica che ha creato appunto notevoli disagi in tutta la giornata del capoluogo di Regione. Ritorniamo nelle pagine della nostra provincia. Indagine Erap, la parcella che inguaia un dirigente avrebbe favorito una ditta che ha pagato poi 1.040 euro ad un architetto, l'ingegnere Ettore Pandolfi, promosso responsabile della sede di Ascoli. E qui nell'articolo di Roberto Damiani c'è tutto l'escursus di questa vicenda. Qual è il reato? Che è ex concussione. Adesso si ipotizza l'induzione in debita a dare o promettere utilità. Da quanto si è appreso però, dice il giornale, l'imprenditore che è stato perquisito sia a casa che in ufficio ha chiesto di essere interrogato dalla Procura. Ma nel frattempo l'inchiesta denominata Lavori in Corso sta per concludersi. Ricorda il giornale che ci sono indagate 8 persone, tra cui appunto 3 dirigenti dell'ente. Andiamo nelle altre pagine che riguardano Pesaro. Un tour delle brutture, qui non siamo al sicuro, siamo in via dell'Acquedotto, è parco 25 aprile. La situazione, dicono i cittadini, non migliora, fate qualcosa. E qui nelle foto diciamo che c'è veramente di tutto e sono estremamente esplicative di quello che è il malumore dei residenti nel posto. Anche qui vediamo appunto l'articolo che parla di questo videocube, che sarebbe questo qua. Adesso ve lo faccio vedere, cerco di ingrandirvi il più possibile. Guardate, è veramente molto grande. Questi sono i seggiolini. Ha praticamente 8 facce, 4 molto grandi e altre 4 più rettangolari, più piccole. Ma questo consentirà di apprezzare non solo le statistiche e i punteggi, ma anche le azioni, i replay. Insomma, è sicuramente un plus aggiuntivo. L'astronave vola appunto con il 360 videocube sarà lanciato appunto durante le Final 8 che andranno in campo gli atleti dal 13 al 26 febbraio alla Vitrifrigo Arena per gli amanti del basket. E grazie appunto anche nel Corriere Adriatico, si parla di questo videocube, l'astronave decollerà nel futuro un maxischermo, ma qui lo vedete proprio diciamo quasi collocato per darvi l'idea di quanto è grande chi c'è stato alla Vitrifrigo Arena capisce un po' le dimensioni. Diventa appunto questo contenitore sportivo, ma non solo, indotto che vale ben 16 milioni di euro, dice appunto il presidente di Aspes, Pieri. L'utilizzo della Vitrifrigo è fondamentale per la città, ospita 10 mila persone, 7 milioni di presenze, finora in oltre mille eventi tra sport, spettacoli e convention. E quindi perché è un contenitore multifunzionale, si possono ottenere anche concerti, ce ne sono stati tantissimi, frequentatissimi, ricordiamo quello di Renato Zero, anche che ha fatto il sold out, ma poi tanti altri. E sicuramente per una città è importante una struttura come questa, speriamo che anche Fano si adegui presto con una struttura che permetta anche di accedere a determinate attività, non solo sportive, ma anche di spettacolo. Ma quella sembra sicuramente una strada intrapresa. Banda ruba l'armadio blindato, siamo alla Cronaco, un'altra villa finisce nel Mirino, a Monte Granaro, preziosi e un fucile trafugati dai ladri. A San Rocco invece i ladri si accontentano di visitare la casa del Custode. Cimitero abusivo delle auto, un'area scoperta dalla Guardia di Finanza di 1200 metri quadrati, dove venivano stoccate 80 tonnellate di carcasse, di veicoli e il danno che è stato creato anche all'ambiente riguarda appunto il percolato, i liquidi che erano sul terreno e che possono arrivare anche fino alla falda acquifera se non venivano smaltiti in maniera regolare, quindi olio del carburante, c'era anche il liquido delle batterie, tutto sul terreno così, ci sono delle misure di sicurezza da prendere per questi impianti di smaltimento, cosa che, almeno da quanto si legge nella nota della Guardia di Finanza, tutto questo non c'erano. Apriamo la pagina di Fano con notizie dolci, sono arrivati 180 acquitali di Leccornia, 120 sono già presenti, altri 60 sono in arrivo, la risorsa del carnevale più dolce, proprio questa qui vedete nella foto, nel cavo segreto della carnevalesca, un'immagine eloquente di Maria Flora Giammarioli sommersa da cioccolato nella cassa del carnevale di Fano, quasi tutte vendute, le postazioni per il lancio, ricordiamo che sono queste terrazze sui carri di prima categoria, sono una decina in tutto, dalle quali appunto i fortunati riversano sugli spettatori del carnevale a piene mani appunto 60 quintali di dolciumi ogni domenica, insomma quindi l'ebrezza di provare questa sensazione è un po' la carta vincente, l'asso vincente del nostro carnevale che appunto si distingue tra tutti gli altri a livello italiano per questa copiosità di lancio di dolciumi, 80% è tutta cioccolata, è soltanto un 20% caramelle, quindi insomma quasi facendo i conti, insomma calcolatrice alla mano, con i 14.000 erotti presenti sul percorso è quasi mezzo chilo di cioccolata a testa, che non è poco, a patto di prenderla insomma, ma per questo ci sono i prendigetto. L'imprenditore che ha dominato il futuro di chi stiamo parlando, stiamo parlando di questo signore qui, Severino Capodagli, alla bellezza di 80 anni suonati, di cui 50 nello stabilimento di Lucrezia, e 20 alla Valmex, dice lui, ho avuto il privilegio, e cosa non da poco, di vivere l'evoluzione industriale da 1.0, e adesso siamo alla 4.0, quindi può dire sicuramente di aver realizzato i suoi sogni, ma non pago, dice io non mi fermo, vado avanti, insomma quindi cifre veramente importanti, nel nuovo secolo i dipendenti sono passati da 20 a 350, quindi insomma un'azienda leader negli scambiatori di calore, e quindi insomma un'eccellenza territoriale, anche nelle pagine del resto del carlino di Fano, si fa una ride nel cavo del getto, il sapore del carnevale, cioccolatini e caramelle, ogni sorta di bontà, attendono di essere lanciati, insomma dai carri, mancano poche ore, poco meno, poco più di un giorno, di 24 ore, poi sarà il tripudio per gli amanti del cioccolato, del carnevale, e quindi insomma è tutto pronto per allestire i carri, ma a parte gli spettacoli, ci sono anche altre questioni, sul piatto, su Fano, una di queste è l'ex Carducci, quindi nel, stiamo parlando del Nolfi, dove si stanno muovendo tante anime e si sta cercando di trovare una soluzione che non penalizzi ulteriormente studenti, docenti e famiglie, adesso si è tenuto un tavolo e sono venute fuori diverse possibilità, tra cui i fondi INAIL per fare una nuova scuola, nuova di Zecca, perché si parlava di mettere a norma, un po' di più a norma, Palazzo Petrucci, però ci sono delle difficoltà, Paolini, il Presidente della Provincia, che vedete qui al centro, con a fianco Minardi, questo è il Presidente Giombi, si cerca una soluzione definitiva e strutturata, e quelli dei fondi INAIL potrebbero essere una possibilità, e quindi impegno, oltre che del Presidente della Provincia, su anche questa vicenda di Seri e del Presidente Giombi, che ha chiesto appunto questo ulteriore summit per cercare di fare il punto della situazione e non affrontare un altro anno scolastico con l'incertezza del futuro per studenti e tutto l'Istituto. Andiamo a Vallefoglia, questa sanità convenzionata è necessaria alle aree interne, parla Gino Traversini, che difende con tenacia le soluzioni individuate per la sanità dell'entroterra, quindi stiamo parlando di Sasso Corvaro e di Caglie, quindi nella pagina di Vallefoglia si parla di questo. In quella di Valmetauro, invece si parla di lavori, bitumazione, manca mezzo milione, siamo a Fossombrone, il contributo straordinario dovuto dall'impresa al Comune per l'incremento di valore per la variante del piano regolatore. Oltre agli oneri urbanistici, della cifra non c'è traccia né nel progetto dell'impianto né nella delibera comunale e quindi l'area agricola di 35.000 orti metri quadrati dovrebbe essere trasformata in zona produttiva, ma mancano appunto fondi per completare l'impresa. Nella Val Cesano, andiamo a Mondolfo, la crisi è equiparata all'evasione e quindi c'è una dura reazione delle categorie, delle associazioni di categoria per quanto riguarda questa presa di posizione del Comune di togliere le licenze agli esercenti morosi. Le associazioni stigmatizzano questa decisione politica con un commento abbastanza critico su questa iniziativa. Andiamo a Urbino, parcheggio Santa Lucia, utilizzatissimo però anche di notte, preda dei vandali, tre giovani ripresi della telecamera hanno svuotato quattro estintori nella sala d'aspetto e nei vari piani. Insomma, un bel esempio di imbecillagine perché dopo gli estintori servirebbero anche per cose un po' più importanti, però insomma non avevano niente di meglio da fare e quindi insomma hanno pensato bene di scaricarli e di passare qualche ora di imbecillagine. Allora, Donna scompare nel Borsco, c'è la cronaca, è in buone condizioni perché è stata ritrovata, purtroppo si tremeva il peggio come sempre in questi casi, ma i vigili del fuoco di Urbino l'hanno rintracciata all'alba, era scattato il piano di emergenza e quindi si erano attivate tutte le normative del caso e quindi era partita la ricerca per questa donna data per scomparso. Fortunatamente è stata ritrovata in un bosco, appunto anche nelle pagine del Corriere Adriatico, si parla di questo, donna non ritorna a casa, scattano le ricerche per tutta la notte, solo all'alba è stata trovata dai soccorritori. Era infreddolita e confusa e quindi è stata assistita e poi tra l'altro accompagnata anche in ospedale per verificare il suo stato di salute, ma è ritornata nella sua casa. Andiamo a Senigallia, sul lungomare, ora la protesta si allarga, il senso unico e diventa anche un caso politico. A Senigallia cartelli, appunto, ecco qua, molto eloquenti del comitato è assemblea a rischio di strumentalizzazione per il voto, però il comitato sostiene non guardiamo ai partiti, ma solo alla gestibilità del lungomare e quindi, insomma, assemblea per il cantiere sul lungomare da parte di operatori, esercenti commerciali e residenti per appunto contestare questa opera che si sta facendo nel lungomare di Senigallia. Ma c'è anche la cronaca nelle pagine del Corriere Adriatico per Senigallia, ride in centro, quindi si parla di furti, bis dei vandali, quindi ritornano sullo luogo del delitto, pasticceria, ancora nel mirino, la San Martino, senza pace, danneggiano anche i fiori degli arredi esterni, vedete qui c'è stato spaccato un pannello, insomma, veramente cronaca delle peggiori risme. La Lega guarda alla Campanile per il ballottaggio, dove siamo? Siamo sempre Senigallia, ma nelle pagine del resto del Carlino, quindi si parla di elezioni, l'assessore ha rotto oggi ogni rapporto con il PD, ma Fratelli d'Italia non vuole appoggiarlo, è Gennaro Campanile che è uscito dal PD ed è il cardindato alternativo a Volpini che sarebbe la prosecuzione naturale del post Mangialardi per quanto riguarda appunto il PD. Chiudiamo con una pagina di spettacolo che riguarda il Festival di Sanremo che sta tenendo banco da martedì con Ascolti Record e questa sera arrivano Ivan Cottini che lo vedete qui insieme alla sua compagna di avventura Maria Berardi che balleranno davanti al pubblico del Festival di Sanremo il ballerino ex modello malato di sclerosi multipla e la sua compagna di avventura stasera saranno all'Ariston una coreografia sulle notte della cantante Elisa dice Ivan che non perde mai lo spirito e il buon umore dice siamo carichi a mille allora chiudiamo facendovi vedere le pagine di apertura il Corriere Adriatico scritto contro il cantiere siamo al vilino a Ciarri di Pesaro giù le mani dalla città vergogna questa è la scritta per contestare questa opera che si sta realizzando ma l'apertura è per la cronaca banda ruba l'armadio blindato dove c'erano gioielli è anche un fucile un'altra villa finisce nel mirino e poi in un'altra casa vanno nella casa del custode e fanno razzia sequestrato il cimitero delle auto e alla Vitrifrigo Arena è stato inaugurato un nuovo videocube un nuovo maxischermo e l'indotto vale 16 milioni di euro nelle pagine del resto del carlino di peso Erap in evidenza l'indagine della guardia di finanza la parcella che mette nei guai un dirigente spuntano retroscena dell'indagine della procura l'accusa è di aver favorito una ditta Sanremo arriviamo Ivan Cottini e la sua compagna di danze balleranno questa sera davanti al pubblico dell'Ariston e anche qui nel resto del carlino si parla del videocube della Vitifrigo Arena che mostrerà le immagini più spettacolari a 360 gradi a tutti gli spettatori dell'astronave come conosciuta dai più bene siamo arrivati in fondo io prima di lasciarvi vi devo ricordare che ci sono degli appuntamenti importanti domani appunto c'è la prima domenica di carnevale Fano TV è protagonista come tutti gli anni del carnevale avremo naturalmente la diretta apriremo una finestra a partire dalle 15 domani proprio sul carnevale sul primo giro il primo giro di carri la sfilata e vi faremo vedere le mascherate avremo ospiti ci sarà Marco Ferri sul nostro palco sulla nostra postazione come sempre anche come anno scorso con ospiti lungo il percorso ma poi come sapete quando arriva il carnevale arriva anche il processo al carnevale che inonda tutte le domeniche quando ci sono le sfilate ovviamente alle 20 e 45 quindi 20 e 45 processo al carnevale per vedere tutto quello che è successo nella giornata quello che anche ha funzionato e non ha funzionato insomma tutto quello che è stato la domenica di sfilate quest'anno c'è una novità perché abbiamo pensato di premiare i migliori scatti che vengono fatti nella domenica c'è un hashtag un da fare che sarebbe appunto ecco qua il regista Riccardo Sora prontamente mi mette la grafica scatta e vinci inserisci le tue foto con l'hashtag che sarebbe questo acronimo sarebbe appunto cancelletto e poi di seguito la scritta tutto attaccato carnevale tv mandate le vostre foto su instagram e quindi la più bella verrà premiata e quindi insomma datevi da fare telefonino alla mano anche voi durante le sfilate del carnevale bene questo è tutto grazie siamo arrivati in fondo il nostro numero è sempre a vostra disposizione per le vostre segnalazioni non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana e ci vediamo domani sul corso mascherato se venite al nostro carnevale arrivederci e buon fine settimana a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti